buongiorno a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare audi q3 2000 turbodiesel 150 cavalli 4 con cambio s-tronic nella versione design colore nero metallizzato immatricolata il giugno 2016 con 23.500 chilometri dotata di fari all'oxenon ruote 17 sensori parcheggio posteriori clima automatico sedili riscaldati cruise control navigatore satellitare bluetooth radio cd e media interface noi la proponiamo a 32 mila e 900 euro più spese di matricolazione e messi in strada con 24 mesi di garanzia vettura proveniente dalla germania ex dipendenti audi se vi interessa su questa vettura vi possiamo proporre un ottimo tasso agevolato del 2 95 noi ci troviamo a motta di costigliole d'asti telefono 0 1 4 1 96 92 14 sito internet bianco auto punto it ciao a tutti amici